Una sorpresa Un'altra sorpresa Allora, facciamo partire la sorpresa Daniele Grazie a tutti Io ti agaccio Perché qui so al capo A capoccio Metti bene sto capo Io ti agaccio Perché qui so al capo A capoccio Metti bene sto capo Io ti agaccio Perché qui so al capo A capoccio A capoccio A capoccio Acquisisci La cassetta da meretta Neanche poi allo spettacolo Me pisci Etichetta Data a programma Anda in testa Metti appunto sta cassetta A capo il show, fate bianchi e metti a sink, siete stanchi in affranti come i sit Metti a fuoco sopra il beat, FH nuova crew, sforla it, solo it, solo it Io metti in bolla, lavoramo sotto il sole, famo a golla Piano maschi altro che posti nell'ampolla, sta fanciula Ci guarda, noi di FH, il posto crolla, il posto crolla Vieni qui, viene il C, stacca un po' come famo Qui è il super video, che se la cavamo, famo foto e video perché semmo in due Cambiamo la cassetta ma la chiamiamo in due 60 minuti di registrazione, 60 minuti di acquisizione Nessuno la ama, collega il fan, guarda, oh come cazzo si chiama Stavo con il catana, sala di montaggio, roba entra, se c'è il coraggio Sempre chiusi qui, vediamo un miraggio, uscimo solo allo spettacolo del primo maggio Senti sto beat, hai capito il messaggio, c'è qui E come le palla Sonic, non è vero, HD Ma poi vai niente, Agaboccio, D-F-H-Crimi, tu sei un perdente No, no! Agaboccio, 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 Agaboccio Agaboccio, 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 Agaboccio Agaboccio, Agaboccio, Agaboccio Oh Agaboccio, stai sparato Allora prendi il cavo Firewire e inizia ad acquisire la camera 100 è tutta tua In defrappa, giù, manca sempre uno per fa' 31 Allora, grazie, grazie Il tuo team E' emozionato Ancora, venite, venite per un grande applauso Vi ricordo Prendetevi questo applauso Tutti al varietà Per quindi, chi volesse farsi due risate Insieme a tutti i ragazzi del primo, secondo, terzo e quarto E qualche sorpresa Può ritornare domani Anzi, vi aspettiamo Più numerosi che mai Grazie all'Istituto Santa Maria Al professor Piccardo La nostra direttrice Eccola qui Coordinatore scolastico Andrea Primi Ringraziamo Daniele Daniele, vieni, vieni per i saluti finali Ringraziamo Max All'audio Ma soprattutto la GBC con Terenzi Grazie a tutti i tuoi ragazzi Ancora ai ragazzi di regia Facciamo un in bocca al lupo a quelli del quinto Domani ci saranno ancora Facciamo, come dire Un bellissimo e felice augurio Di una bellissima vita di lavoro E di tante belle cose Grazie anche a te Marco Colibazzi Grazie a voi Sei straordinario Un grande applauso a Giulia Costantini Grazie a voi Abbiamo finito Eccoli Daniele, eccolo qui In bocca al lupo per i ragazzi di quinta Che veramente questa sera sono stati straordinari Si sono mostrati con tutta la loro determinazione La loro creatività Grazie ragazzi per queste emozioni che sapete regalarci Grazie ancora I migliori anni della nostra vita La nostra vita La loro vita Istituto Santa Maria Il piacere di essere studente La nostra vita